Non è chiudendo le frontiere e chiudendosi a riccio, ma in un'apertura e in un dialogo politico, oltre che economico, con la comunità europea. Il Parlamento europeo è un primo passo, una tribuna da cui si possono tessere dei legami per creare dei veri Stati Uniti d'Europa come noi vogliamo. L'Europa dei cittadini, l'Europa della non violenza, l'Europa dei diritti umani, l'Europa di una politica estera comune. L'importanza, certo, dell'informazione, ma dell'educazione e lo che è della competenza dell'Unione. To save life is a value in any case. Se non si va verso gli Stati Uniti d'Europa, non c'è rilancio possibile. Abbiamo bisogno anche degli Stati Uniti d'Europa. In Italia c'è chi ha avuto sempre le idee chiare sull'Europa e non le ha mai cambiate. Non sto parlando di me, sto parlando di voi. Il 26 maggio dimostrata al mondo che un'altra Italia c'è.